e ragazzi bentornati sul canale stamattina siamo su spell break un battle royale free to play veramente veramente divertente che andiamo a trovare subito io ho già qualche giocato un pochino per capire come funziona riuscito pure a vincere una volta siamo dei maghi e siamo armati con dei guanti magici dai poteri elementali i poteri fino adesso nel gioco sono 6 sono fuoco ghiaccio terra vento fulmine e veleno tutti abbastanza divertenti con abilità abbastanza differenti e con quantità di danno che fanno abbastanza molto molto differente però ce n'è per ogni tipo di giocatore insomma li potete combina insieme tipo ecco ad esempio adesso ho un guanto di fuoco e ho appena trovato il guanto di fulmine quindi li possiamo combinare vabbè non tutti i poteri sono combinabili che erano proprio delle combo vere e proprie non tutti 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 però la maggior parte comunque interagiscono benissimo fra di loro ok scelto il posto regala scendiamo vedete quei cerchi li sono delle chest particolari che danno parecchia parecchia roba interessante solo che aprile ci vuole un po di tempo quindi visto che sono pure segnati sulla mappa sicuramente qualcun altro verrà a sbirciare pietra trovato subito perfetto piuma trovato subito perfetto rega quello che volevo l'assetto è giusto a me piace tantissimo fuoco primario e pietra secondario e ci abbiamo la runa questa qui che è ottima per le evasioni rapide dobbiamo scendere sotto oh 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 qua c'è qualcuno come sa che c'è il nostro stesso assets no c'è il vento ok l'abbiamo sdraiato ma questo si è rianimato fatto quanto del fuoco raro c'ho al guanto più potente del nostro decisamente dobbiamo usare la pozione che ne abbiamo bisogno la stava a mangiare ma ne ho messo e mi sono andati c'ho ancora un po' per traverso si rega ovviamente essendo un battle royale c'è sta la save zone c'è sta il cerchio che si stringe come tutti i battle royale però questo questo merita parecchio secondo me è molto molto divertente man mano che entrate nelle safe la vostra abilità principale quindi l'arma principale che avete nel caso mio il guanto del fuoco si potenzia fino a un massimo dei quattro livelli primo livello ce l'avete di partenza gli altri quattro li fate ogni volta che entrate in una safe quindi vedo abilità speciali tipo che ne so che magari ecco la fiamma mia che lascio per terra se la tocco non mi fa danno sembra una stransata rega ma non lo è perché quando soprattutto è c'è sta un botto di gente a schermo e tutto quanto rischi costantemente di andare a finire dentro l'attacco tuo capita spessissimo quindi guarda qua c'è gente guarda qua aley guarda qua là c'è p... s'affai Eh, regà, era praticamente morto Dove sta? Becca E becca, perfetto Non abbiamo ucciso un altro Vediamo C'è qualcosa di utile? Sì, la voglia Ha un botto dei scudi Ok, ok, ok Ne abbiamo fatti fuori tre Però mi è scappato quello di prima Comunque quest'assette, regà È veramente tanta roba A me piace tantissimo E è, abbiamo detto Primario fuoco Secondario roccia E come runa usiamo la piuma Che ci fa salta in aria E è ottimo per manovre evasive E soprattutto per controllare la zona dall'alto Se avete abilità Veloci che potete comunque lanciare da per aria Ad esempio, ecco, la roccia per aria Non la lanci perché Per usarla devi stare a terra Appena che non lanci il pietrone grosso Ma quello ha un delay abbastanza corposo Quindi non è che lo lanci in continuazione Ragazzi, siamo rimasti in nove Teniamo la pergamena della mente Potenziamo il mana Assolutamente sì Il fulmine non ce ne frega niente E ci spostiamo subito Siamo in sei Eh, c'ho un fuoco Raro E un roccia epico Ma li vorrei mai Entrambi leggendari Ecco, lì c'è qualcuno Stiamo attenti però Perché non sappiamo come equipaggiato Potrebbe romperci Occhio eh Ecco, e ti piace hanno bersagliato Ho fatto una cazzatina ragazzi Ho fatto la stronzatina Ah La cosa non vi ho detto Con il potenziamento attivato Che c'ho del fuoco Se passo in mezzo Al mio muro di fuoco Volo Perché è ottimo Morici Allontanamosi E possiamo come non ci possono domani Perché se no Oh 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 Ci abbiamo uno sotto Occhio Occhio Veloce Pozza veloce Intanto abbiamo trovato un fuoco leggendario Che è stupendo Proprio quello che volevo Siamo rimasti in tre Eccone uno Ma non voglio hittarlo subito Forse Vabbè Sì va Immune No Porca miseria No Eccoli lì Che si stanno affrontando Sì L'ho ucciso Ragazzi Sono rimasti in due Solo in due Ne abbiamo ucciso i cinque Ottimo Dove sta? Dove cazzo Sarò la sta? Eh regà No no Eccolo Era qui Io Pozza veloce 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 Regà Non lo vedo più Non lo vedo più Lui all'armore Io no Eccolo Ah no 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 Sto in basso Sto in basso Sto in basso Ragazzi ho vinto L'ho preso Dai così Perfetto Che gran vittoria Regà Gran vittoria Sudatissima Bellissimo Scontro contro Sto tizio Veramente E regà Questo è spell break Non Se lo metto qua A parlare o altro Comunque Vabbè Dove pure essere abbastanza Concentrato Perché se no Non gliel'avrei mai fatta E regà Io Ve consiglio ovviamente Di provarlo Sto gioco Perché è divertentissimo Se può giocare in compagnia Se può fare modalità singolo Duo E terzetto Mi sembra Sì in tre In squadra 4 Non vale ancora no Anche questo video Direi che A posto così Abbiamo detto E' fatto abbastanza Ci vediamo In un prossimo video Ragazzi Come al solito Vi ricordo Lasciate un commento Mettete un mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina In descrizione Sotto questo video Ragazzi Troverete anche Il mio link Per il canale Di Twitch Non streamo tantissimo Non farò Tantissime live Per carità Però magari la sera Ogni tanto Qualche partita Me la faccio Soprattutto a questo giochino qua Ragazzi Che altro dire Ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao Ciao